Il Covid in regione insegna un altro primato. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 964 nuovi casi, emersi grazie a 25.428 tamponi. Il tasso di positività è quindi del 3,79%. Salgono di tre unità i ricoveri nelle terapie intensive, arrivando a 34, mentre scendono di uno i pazienti accolti negli altri reparti, che risultano quindi 285. Nella giornata odierna si registrano i decessi di sei persone, tutti in ospedale, un 85enne di Sacile, due 84enni, una di Trieste e una di Udine, due 81enni, uno di Pordenone e uno di Trieste e un 58enne di Brugnera. Il conto delle vittime tocca quindi quota 4.118. La prima fascia di contagio è sempre quella degli under 19, dal momento che rappresenta il 25% dei nuovi positivi. Un dato confermato anche dal report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. Nell'ultima settimana l'incidenza ha raggiunto i 317 casi per 100.000 per la fascia 0,9 e i 296 casi per quella 10-19. Proprio nella classe di età 6-11 anni si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggior crescita dell'incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un'impennata negli ultimi 15 giorni. Si mantiene comunque elevato il ritmo delle somministrazioni di vaccini ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni, operazione che domani alle 10 sarà avviata anche al lab vaccinale della Fiera di Udine. Continuano intanto a essere osservate speciali anche le strutture per anziani. Di 96 ospiti di Casa Serena di Grado, 11 sono ricoverati in ospedale, mentre degli altri 22 sono positivi, 36 sono negativizzati, 27 sono tenuti in quarantena. A tutti lunedì sarà effettuato il tampone.